facciamo finta di niente, lo stacchetto lo faccio io, Giulia Simarini, come va Giulia? ti piace lo stacchetto? sentito? c'è parte in un certo modo, si espande e poi alla fine chiude, chiude, chiude un po' il nevare, però è bello, ce l'abbiamo? è una finta questa frase facciamo un applauso al nostro tecnico! anzi, vorrei che faceste veramente un applauso a tutti questi ragazzi perché non avete idea di cosa succede là dietro una barota, un applauso serio! abbiamo Giulia Simarini che, attenzione, canta una canzone di Alicia Keys si chiama If I Got You dirige l'orchestra Fabrizio Zingaro attenzione perché abbiamo Giulia Simarini un applauso che si chiama il preio Grazie. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione